Sono 71.947 nuovi positivi in tutta Italia secondo il bollettino quotidiano del 3 luglio 2022 consultabile attraverso il sito del Ministero della Salute e di questi 5.668 soltanto in Sicilia. In provincia invece l'aggiornamento delle 24 ore precedenti al 3 luglio dell'Aspe Nissena ha registrato un incremento di 214 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 72 di Caltanissetta, 62 di Gela, 14 di Vallelunga Pratameno, 13 di San Cataldo, 12 di Niscemi, 9 di Campofranco, 8 di Mussomeli, 5 di Butera, 5 di Riesi, 4 di Mazzarino, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Milena, 2 di Sommatino, 1 di Marianopoli, 1 di Serra di Falco e 1 di Sutera, 3 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 1 di Gela, 1 di Mazzarino e 1 di Niscemi, mentre un paziente di Gela è stato dimesso dalla degenza ordinaria, guariti infine 25 pazienti di Gela, 23 di Caltanissetta, 7 di Mussomeli, 5 di Villalba, 3 di Niscemi, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Campofranco, 2 di Mazzarino, 2 di Resuttano e 1 di San Cataldo. Grazie a tutti.